lifty e max, i robot e lea vanno al parco giochi tutti insieme andiamo! giochiamo insieme con le macchinine, la ruota, il motore, il cofano e il camioncino leo che gioca con noi! al parco giochi con leo! leo il camioncino curioso, la scala dell'aereo eccoci all'aeroporto! bambini partiamo per le vacanze! insieme a lea con la sua valigia rosa e il suo cappellino alla moda! ma con noi vengono anche i robot! che stai facendo robot blu! ma che confusione robot! che state combinando? eh! vuoi volare? non capisco! ah! ti vuoi tuffare! certo! appena arriveremo al mare! ah! con l'aereo! sì! siamo qui per questo! sì! l'aereo volerà in alto! sempre più in alto! sì! ciao lea! vogliono salire sull'aereo ma non c'è la scala! giusto! per salire sull'aereo serve una scala e leo ai pezzi della scala nel cassone! e ora lo assembliamo insieme! oh oh! quanta roba! prima di tutto colleghiamo le parti verdi telaio e cabina di pilotaggio le quattro ruote nere e arancioni due da un lato e due dall'altro i parafanghi viola due più due fari viola e giallo paraurti giallo questo è uno stabilizzatore per rendere la scala sicura un altro e un'altra ancora ecco la scala blu e rossa regolabile nella sua lunghezza e poi i sedili il volante marroni e gli sportelli verdi con maniglie gialle il camion scala in barco è pronto! attenzione i passeggeri sono invitati a salire a bordo! i robot entusiasti salgono per prima c'è qualcosa che non va beh sì dobbiamo controllare guardate bambini manca uno stabilizzatore e ne abbiamo messi solo tre dov'è l'altro? il tuo cassone è vuoto leo ho un'idea andiamo da lifty lo shop è un negozio ben fornito lifty dove sei? hai uno stabilizzatore per il camion scala? venite con me lifty ha trovato tre stabilizzatori diversi tra loro qual è quello giusto? quello verde è un po' troppo lungo quello rosso è piccolo e largo allora è quello giallo prendiamolo! tante grazie lifty a presto hai dimenticato una cosa un bel cappello un bel cappello grazie davvero bello i robot sono stanchi di aspettare ma ecco leo e lea c'è anche lifty trovato presto montiamo lo stabilizzatore e via in vacanza aspettami lea ma i robot hanno ancora paura robot la scala ora è sicura eccomi a presto bambini signori camion robot e il comandante che vi parla stiamo per decollare destinazione vacanze meravigliose torneremo presto bambini guarda max sapevo che avrebbero dimenticato qualcosa sempre distratti grazie grazie